Primi tre giorni di lavoro per il Bitonto qui a Camerino, mister Claudio De Luca, le sensazioni come cresce, come si amalgama questo gruppo? I ragazzi stanno lavorando benissimo, dopo i quattro giorni a Bitonto dove abbiamo già avuto modo di capire, ma non c'erano dubbi, la disponibilità di tutti i ragazzi. Sono dei grandi lavoratori anche perché insieme alla società abbiamo scelto degli uomini, dei lavoratori seri, quindi si sono messi a massima disposizione di tutto lo staff e stanno lavorando benissimo. Sicuramente rispetto al lavoro che abbiamo fatto a Bitonto è un lavoro più intenso, sono sempre doppie sedute e iniziano a subire i carichi di lavoro. Quindi è normale che inizia a esserci piano piano, poi ci sarà sempre più stanchezza, meno lucidità, però vediamo naturalmente le caratteristiche dei ragazzi e la grande qualità del gruppo. Turubiason, terzo giorno di lavoro qui a Camerino, ormai sei un abitué qui di Camerino, è la terza avventura in ritiro per il campionato. Le prime sensazioni in questi primi giorni di lavoro qui nelle Marche? Sicuramente le sensazioni sono positive, siamo un gruppo di grandi ragazzi che ci siamo messi a disposizione del mister, quindi per il momento sta andando tutto bene e speriamo di continuare così. Come sta crescendo l'alchimia all'interno di un gruppo che ha ereditato tanti volti presenti lo scorso anno ma ha visto l'ingresso anche di tanti volti nuovi? Bene, bene, i ragazzi che sono arrivati sono bravi ragazzi, si sono messi a disposizione dal mister e noi quelli che siamo da più anni siamo a piena disposizione per fare e stare bene. Quindi per il momento sta andando tutto tranquillo e speriamo di continuare così perché sappiamo che è ancora l'inizio.